Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale dell'Aquila ha fissato al prossimo 25 ottobre l'udienza preliminare nei confronti dei quattro indagati per l'incidente nella scuola dell'infanzia primo maggio dell'Aquila avvenuto il 18 maggio dell'anno scorso che ha causato la morte di Tommaso D'Agostino, quattro anni, e il ferimento di altri quattro bambini. Il reato contestato è quello di omicidio stradale, a causare la tragedia una Volkswagen Passat parcheggiata in discesa all'interno della struttura. L'auto si sarebbe sfrenata travolgendo un gruppo di bambini che stava giocando in uno spazio aperto. Gli indagati sono la donna di origini bulgare da anni all'Aquila che aveva parcheggiato l'auto senza mettere il freno a mano e scesa dal veicolo per riprendere da scuola i due figli gemelli lasciando a bordo il terzo figlio di 11 anni. La dirigente scolastica della struttura per l'infanzia, il responsabile del servizio prevenzione dell'istituto comprensivo Mazzini di cui fa parte la scuola dell'infanzia di Pile e il responsabile del settore edilizia scolastica del comune dell'Aquila e direttore dei lavori nell'appalto del complesso scolastico. L'edificio che ospita la scuola dell'infanzia di Pile è stato chiuso per essere ricostruito edificato prima degli anni 80 e di proprietà del comune dell'Aquila. Da molto tempo all'interno dell'asilo c'era un parcheggio non essendoci altri spazi al di fuori ma senza regole che avrebbero dovuto gestire l'afflusso di auto di genitori che andavano a riprendere i figli a scuola.